Ancora mal di pancia a Palazzo Carafa e questa volta Galeotto è stato un posto del Presidente del Consiglio, Carlo Mignone, che critica nuovamente l'operato dall'amministrazione Salvemini. Foto redda accesi tra dieci giorni in corrispondenza di sei incroci cittadini ad alta incidentalità, nonostante i dubbi e le perplessità sollevate da alcuni consiglieri di maggioranza ed opposizione in commissione traffico, scrive il Presidente del Consiglio. A prescindere dalla correttezza o meno delle eccezioni sollevate nelle opportune sedi istituzionali, mi lascia perpresso il commento dell'assessore Arramo, che dichiara nel confermare la volontà di proseguire senza indugio alcuno, predisporremo una campagna di comunicazione per informare i cittadini. Ma qualsiasi campagna di informazione al cittadino è debba fatta con cronguro anticipo e non mi sembra che ciò sia stato possibile a nove giorni dall'attivazione del photo red. Nel caso contrario rischiamo di trasformare quelli che dovrebbero essere usili per la sicurezza in delle vere e proprie trappole per gli automobilisti. E non mi sembra che i cittadini in questo periodo ne abbiano bisogno. La speranza è che si tenga conto della necessità di una campagna di informazione adeguata prima e non dopo l'installazione, conclude Mignone.